Social Podcasting. Your Digital Friends. Le poesie di Alma. Buongiorno, amici di Social Podcasting. Sono Emanuele Andrea Spano e oggi, per Alma Poesia, vi leggerò un testo tratto dalla raccolta La Zona Rossa, di Raffaele Castelli Cornacchia, edito da Transa Europa. Una deriva di fatti sommersi. Ecco l'acqua a fluire in un sibilo che sgorga dai tombini della strada, o forse la metropolitana, a portare persone fatte d'acqua, in buona parte, da qualche parte. La città non puzza e non sa rabbia, la sopraelevata è inutile, come la raccolta differenziata e il tricolore alle finestre. Raro interrompere il coito del colare caldo sui viali della ring, fra il carcere e il fontanone, dall'eretico alla galleria e giù, lungo il torrente sepolto. La spostatezza e voglia di pace, di prendersi cura dell'ottimismo, di rivangare i corpi percorsi, di starsene senza fiato sott'acqua. Hanno sempre adombrato tutto il torrente che scende dalla valle, i molti arami e le sue viste, e i vicoli e le loro braccia e le mura, prigioniera alla peste. Una deriva di fatti sommersi, niente più puttane, tanti notai, e più farmacisti che operai, e cerberi, a custodire cosa? È quel bislacco senso del disuso, a muffire ironia e sorte. Social Podcasting Your Digital Friends